dopo averlo tanto desiderato e esserti preparato al meglio per il tfa di sostegno hai saputo di essere stato ammesso al prossimo ciclo e adesso hai una sensazione di disorientamento una certa ansia per quello che ti aspetta magari una piccola dose di sconforto e un notevole entusiasmo per aver raggiunto un traguardo così importante magari dopo diversi tentativi in questo video voglio fornirti alcune informazioni e tre suggerimenti sulla base della mia esperienza di docente a contratto nei tfa per affrontare al meglio questo tuo nuovo percorso da specializzando nell'insegnamento delle attività di sostegno il tempo della sigla e sono con voi ben ritrovati agli affezionati e un benvenuto se sei per la prima volta su diversi tutti se ancora non lo hai fatto ti invito ad iscriverti al canale e soprattutto ad attivare la campanella così da non perdere i prossimi video fra i quali ce ne saranno anche di dedicati proprio agli specializzanti per chi non mi conoscesse mi chiamo Maria Teodolinda Saturno e sono l'autrice di storia dell'inclusione scolastica in Italia per saperne di più sulle mie pubblicazioni sul mio percorso professionale puoi dare un'occhiata al link che trovi in descrizione cosa ti aspetta nei prossimi otto mesi puoi solo lontanamente immaginarlo non mi soffermerò in questo video sull'organizzazione del tfa e in particolare degli insegnamenti dei laboratori e del tirocinio a cui ho dedicato un video specifico che troverai alla fine fra i consigliati in questo invece voglio concentrarmi su tre suggerimenti per affrontare al meglio quello che è un vero e proprio tour de force il primo suggerimento è riposati il più possibile prima dell'inizio delle lezioni questo settimo ciclo fortunatamente ha una tempistica tale da lasciare fuori il mese di agosto dagli impegni di preparazione e questo è già un bel vantaggio è vero che molte università cominceranno le lezioni già nel mese di agosto ma sicuramente non al ritmo pieno che è caratteristico di questa tipologia di corso quindi cercate di recuperare il più possibile tutte le energie finché siete in tempo concedetevi una vacanza se possibile o almeno uno stacco dalla routine occupatevi di attività che vi piace svolgere prendete qualche abitudine disintossicante se volete nei video consigliati troverete qualcosa in questo senso ma comunque cercate di svolgere appunto delle attività che possano farvi recuperare queste energie se vi piace leggere anche qualche lettura professionale o di ispirazione potrebbe rivelarsi utile insomma cercate di arrivare a settembre riposati e carichi allo stesso tempo e adesso veniamo al secondo suggerimento ovvero organizzati il prima possibile conciliare la frequenza delle attività obbligatorie con lo studio e le attività previste a conclusione di ciascun insegnamento e laboratorio con la vita domestica familiare ciascuno poi avrà la propria situazione particolare e magari con degli incarichi di insegnamento o di altre attività lavorative è un gioco di incastri non da poco non c'è ciclo in cui non abbia visto corsiste neomamme allontanarsi dalla lezione il tempo di allattare il proprio piccolo e papà fare su e giù per i corridoi in attesa che finisse la lezione lezioni tra l'altro lunghe nel senso che occupano in genere l'intera giornata del sabato e diversi pomeriggi infrasettimanali questo solo per dire la variabilità di situazioni che ciascuno può trovarsi a vivere e a dover conciliare durante proprio la fase di frequenza del TFA a questo proposito ti suggerisco di dare un'occhiata alla quarta guida del cofanetto diventare docente di sostegno guida acquistabile anche separatamente che riguarda proprio come è organizzato e strutturato il TFA e tutto quello che dovresti sapere addirittura prima di scegliere la sede ma sicuramente prima di iniziare il tuo percorso nella guida TFA di sostegno cosa sapere prima di scegliere troverai tutte le informazioni proprio su come è strutturato e organizzato il corso di TFA sostegno quindi le varie fasi che ti aspettano e poi tutta una serie di questioni come la richiesta delle 150 ore di diritto allo studio o la possibilità di svolgere il tirocinio nella propria sede di servizio e così via tra l'altro compresa la questione delle assenze e in questo senso vi voglio anticipare che al momento della registrazione di questo video la richiesta da parte dei direttori dei corsi di specializzazione di aumentare un pochino la percentuale di assenze data la situazione sanitaria ancora non ha visto novità su quanto previsto diciamo dalla normativa a conclusione nella guida quando avrai avuto tutte queste informazioni potrai anche svolgere un'attività che ti supporterà nell'analisi delle tue esigenze familiari lavorative in modo da individuare quelle priorità utili per organizzarti al meglio bene se siete pronti passiamo al terzo ed ultimo suggerimento ovvero affronta questo percorso con fiducia cercando di accrescere il più possibile le tue competenze so bene avendo insegnato a migliaia di corsisti quanto sia comune la tentazione di vivere il percorso come un obbligo una sorta di pegno da pagare per raggiungere il traguardo tanto agognato ovvero di essere assunti a tempo indeterminato il prima possibile so anche per esperienza quanto sia perverso il meccanismo per cui tutto è talmente veloce che non c'è il tempo di approfondire di assimilare di confrontarsi alla fine è un'esperienza sicuramente indimenticabile vissuta da tutti con grande intensità ma di cui spesso non si riesce a cogliere la grande opportunità e il valore offerto e allora mi tornano in mente le parole di una corsista che mi ringraziava per gli insegnamenti offerti durante il TFA in quanto solo due anni dopo quando era impegnata nella preparazione al concorso ordinario aveva apprezzato e rivalutato questi insegnamenti che le ritornavano utili proprio in quella nuova fase del percorso per diventare docenti di sostegno pensa quindi attentamente al fatto che il corso passa i sacrifici si dimenticano il titolo di specializzazione resta e sicuramente ti offrirà delle importanti opportunità di lavorare con continuità a scuola ma anche di diventare docente di ruolo ma ciò che nessuno potrà mai toglierti è proprio l'acquisizione di quelle nuove competenze competenze che vanno a creare questa tua nuova professionalità competenze tra l'altro che potrai facilmente spendere non solo come docente di sostegno ma anche in altre professioni quello che più importa è quindi il percorso di crescita la disponibilità al cambiamento che farà di te una persona migliore aperta all'inatteso e pronta a creare un mondo come dice il buon Canevaro più giusto la consapevolezza che siamo diversi tutti e che le diversità vanno protette valorizzate sarà la tua ricchezza una stella polare in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando in cui l'inclusione sembra diventare sempre più un valore astratto la maggioranza infatti sembra appiattirsi sul pensiero dominante sempre più intollerante verso posizioni diverse e minoritarie in una dinamica di crescente e rischiosa polarizzazione confido che anche questo video possa tornarti utile e che farai buon uso dei tre suggerimenti sono curiosa di sapere cosa ne pensi come ti stai preparando a questa nuova avventura bene qui accanto troverai altri video suggeriti da diversi tutti prova a dare un'occhiata intanto grazie per la consueta attenzione un caro saluto a tutti e alla prossima grazie per la prossima